Mi ha seguito qualche volo su internet Cienta volte ti vanno a fare certe tirate le tante Perché vedi cosa ne va? Cos'è tutta qua? E' un aereo da Manchester Quando facevano arrivare Secondo quello che dovrebbe essere Doveva essere la transulta scuola Facevano arrivare a Berlio E la destinazione invece Era Berlino Era Monaco Per cui Mi sai quando mi sto a casa e vediamo cosa del genere Non riesci a capire cosa sta succedendo Questi Questa è verino Questa è per il mondo Questa è grande Grazie a tutti.